bella a tutti ragazzi bentornati sul canale oggi vi porto questa god mod non la chiamo bastardissima come al solito perché appunto è innocua proprio perché non potrete usare le armi se troverete il modo di usarle fatemelo sapere lasciando un commento i requisiti sono avere il ceo e dovrete essere in mira manuale ragazzi niente di che ora vi chiedo prima di iniziare con il video di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale di passare per i canali del team glitch troverete sotto in descrizione e di iscrivervi ai canali telegram dove troverete aiuti per missioni scorte o semplicemente scambiarvi bogdan ora reghiamoci alla scrivania e diventate ceo se non lo siete già mettiamoci seduti ora andiamo ad avviare la solita missione dei veicoli speciali ragazzi ora io ho rallentato un po il video su questa schermata che vi troverete dovrete fare molto velocemente option tasto x molto velocemente ragazzi e vi troverete su quest'altra schermata delle opzioni a questo punto andate su online e fate doppio tasto ps e fate partecipa alla sessione di un amico di chi vi pare insomma aspettate il primo messaggio nero che vi esce ora il primo messaggio lo accettiamo e il secondo lo rifiutiamo subito ci verrà questa scritta questa attività non è più disponibile facciamo x vedrete il giocatore che si alza e si siede e la minimappa è sparita una volta che il giocatore si è riseduto premiamo freccia destra lo facciamo alzare e ora dobbiamo fare una cosa molto semplice andiamo sul menu interazione arreddamento ufficio scegliamo la terza d'epoca o una qualunque tanto non cambia nulla ragazzi e tranquilli non vi scala i soldi io scelgo la terza e come premerò x per confermare partirà un caricamento infinito io anzi l'ho anche accelerato proprio perché era veramente lungo più o meno 28 secondi ora vi troverete buggati su questa schermata qui ragazzi premete il tasto option verrà la schermata nera dietro la mappa ora fate cerchio e una volta fatto cerchio vi tornerà la schermata nera con il caricamento in basso ora nuovamente facciamo partecipa a sessione di un amico accettiamo il primo messaggio e rifiutiamo il secondo una volta tornati su questa schermata buggata tasto option online criminal enterprise starter pack fate cerchio per uscire ora andate sulla mappa quindi nuovamente option andate a selezionare una gara di queste in blu che stanno sulle mappe confermatela e vi dirà che non è più disponibile a questo punto fate x tornerete nuovamente su questa schermata tirate fuori il telefono andate su internet e premete nuovamente il tasto option selezionate un'altra gara qualunque io prendo quest'altra qui vicino confermiamola e aspettiamo di stare nella lobby una volta sulla lobby solida partecipa a sessione di un amico accettiamo il primo messaggio e rifiutiamo il secondo ora ragazzi che siamo tornati su strada come vedete siamo senza la minimappa quindi ufficialmente in god mod è una god mod come ho già detto un po stupida perché non si possono prendere le armi vi faccio vedere anche che appunto provo a chiamare la mary weather ma niente non ci fa scegliere l'opzione del bombardamento che faceva sì di darci il razzo in mano per appunto far spawnare le armi successivamente comunque ricordo a tutti che la god mod la dovete usare diciamo discrezione non andate a rompere i coglioni ai giocatori in sessione perché sennò vi segnalano quindi detto questo ragazzi spero il video vi sia piaciuto lasciate un bel like ed iscrivetevi al canale passate per i canali del team glitch sotto in descrizione e noi ci vediamo la prossima bella per tutti